Tronchi caduti come fiammiferi sotto la forza del vento e della pioggia, disagi in Valtiberina ed in Casentino dove il maltempo, annunciato dagli esperti, è arrivato con qualche ora di anticipo nel tardo pomeriggio di una domenica di luglio rovente. Decine gli interventi dei vigili del fuoco di Arezzo per liberare strade e sentieri dove si sono abbattuti rami ed alberi. Ci sono stati anche blackout elettrici nella zona di Badia Prataglia a causa del forte vento che ha tirato giù le piante. Tutto adesso è tornato alla normalità. Per le prossime ore però la protezione civile della regione toscana ha diramato un'allerta meteo codice arancione in attenuazione per la giornata di martedì 17 luglio. In occasione degli eventi più intensi, si legge nella nota della protezione civile del comune di Arezzo, è prevista una saturazione della rete fognaria, di quella scolante e del reticolo minore. L'amministrazione comunale dunque ricorda che è scaricabile l'app Cittadino Informato, gratuita per ogni dispositivo Apple e Android, uno strumento di comunicazione e informazione immediato per conoscere gli stati di allerta in corso ed i principali contenuti del piano di protezione civile comunale.